Allora, sicuramente per aiutare, perché sono cose che magari durante l'anno della specialità non ci si concentra molto, perché siamo passionati, ma poi vogliamo trovare l'esperienza insieme e portarci anche con altre scuole in Italia e in Italia. La preparazione non è stata facilissima, perché c'è stata l'estate di mezzo, per cui ci sono stati fieri contro fieri e insomma... Fatte te la ricavate pratica, con un'altra possibilità, un grazie particolare a Andrea Pellino, a Andrea Calabaticino, in un'altra possibilità, di un'altra possibilità, di un'altra possibilità a fare un'altra possibilità. È molto difficile partire con una resta, infatti non siamo ricordati, ma abbiamo inteso, anche da sempre. Colosa, croccante, coesa, 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 coesa.